Cosa rende unica un'azienda? Noi di Finder crediamo nell'originalità delle idee, nell'essere indipendenti, nel costruire passo passo il nostro futuro. Siamo nati in Italia nel 1954. Da allora abbiamo sviluppato una rete di filiali con copertura mondiale. Progettiamo e produciamo in Italia ed Europa oltre 14.000 prodotti differenti per ogni tipo di applicazione industriale e civile. Lavoriamo a fianco di installatori e progettisti per contribuire all'evoluzione sostenibile del loro lavoro ogni giorno. Autonomia gestionale, finanziaria e tecnologica ci rendono flessibili, solidi e vicini ai nostri clienti e collaboratori in ogni decisione. Da un'idea a un progetto, dal prototipo all'industrializzazione, dalla materia prima al prodotto finito. eseguiamo test completi sul 100% dei prodotti in ogni fase di realizzazione per garantire una qualità ancora più alta degli standard internazionali richiesti. Accorciamo le distanze per dare il miglior servizio. Grazie al supporto di una rete vendita globale e una logistica efficace, certificata AOF. Dal 1949, con il primo relè passo passo, i nostri brevetti raccontano storie di creatività. Crediamo nel potere delle idee innovative. Per questo investiamo almeno il 18% di fatturato in research and development, espansione produttiva e supporto tecnico-commerciale mondiale. Crediamo nella ricerca e nella sostenibilità come valori inscindibili, poiché la cura delle persone e dell'ambiente sono gli elementi su cui si basa il nostro futuro. Più dell'80% dell'energia utilizzata, proveniente da fonti rinnovabili, di cui oltre il 40% autoprodotta, testimonia una visione aziendale con la sostenibilità al centro. Cosa ci rende unici? Essere esploratori. Lungimiranti. Concretamente rivoluzionari. Essere originali. Dal 1954.